ciao a tutti e bentornati nel canale vi volevo parlare di una nuova uscita del profumo di dolce gabbana ed è questo profumo alla violetta dolce gabbana violetta questa è la boccetta sempre uguale alle altre però col tappo viola e forse anche no il liquido non è viola la boccetta e questa io ho avuto questo campioncino per provare questo profumo è una nuova uscita di dolce gabbana e uno de toilette quindi un profumo molto delicato e gioioso ottimista dove le ribes nero la violetta e la vaniglia si fondono e crea un profumo dolce ma non stucchevole allo stesso tempo adatto una ragazza molto giovane vivace avventurosa però non è un profumo che spacca che spara e io quindi lo trovo buonissimo anche per la stagione secondo me per la stagione più calda magari la sera perché è molto elegante dolce gabbana violette o de toilette e racchiuso in un flacone tinto di viola ammagliante con l'iconico tappo viola che riflette la violetta quindi qui in questa fragranza la protagonista e la violetta la protagonista e la violetta io lo trovo molto indicato per una ragazza giovane che però piace il profumo della violetta e un fruttato talcato alla violetta ma anche fresco e leggermente aromatico poi è del 2023 quindi proprio un'ultima uscita e una novità di dolce gabbana andiamo a sentire insieme e una violetta fruttata dolce e una violetta però molto elegante non è la violetta come quello che abbia quella violetta come la violetta dell'erborario che più sintetico più chimicoso è una violetta molto delicata che si sposa con questo ribes nero e questa vaniglia delicata veramente veramente un bel profumo da ragazza giovane io anche se mi piace tantissimo adesso vabbè mi sfrutto questo cambioncino e mi levo lo sfizio lo trovo però per una ragazza molto giovane andiamo a leggere le note e del 2023 nelle note di testa ribes nero ciclamino e mandarino nelle note di cuore violetta ribes nero e pera quindi abbiamo la violetta il ribes nero una bella pera succosa nella base muschio sandalo e vaniglia del madagascar quanto questo quando questo profumo va in evoluzione diventa un profumo che sa di pulito una violetta che sa di pulito però a me personalmente mi ricorda come un sapone alla violetta quindi rimane forse grazie al muschio che gli da questa questo sentore di pulito alla fine dopo un po è molto delicato e ricorda una una saponetta alla violetta una bellissima uscita molto molto bello che dire se potete andatelo a sentire perché è veramente una bellissima violetta un profumo che sa di pulito da poter indossare tutto l'anno ma di sera anche nella stagione estiva perché è un profumo super delicato io lo indosserei anche in un posto di lavoro in qualsiasi occasione perché è un profumo che non potrebbe mai dare fastidio molto 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 piacevole molto gioioso molto che sa di pulito è veramente un bel profumo dolce gabbana fa sempre centro io amo questo brand tra cui ho una fissa per dolce gabbana blu light ormai lo sapete non ho comprato questi profumi anche se li trovo buonissimi per il semplice fatto che non si possono comprare tutti i profumi che esistono perché ne esistono tantissimi sarebbe impossibile però mi voglio gustare questo camioncino e questo profumo meraviglioso di dolce gabbana poi non è detto magari per i più appassionati al profumo della violetta i più appassionati a questo brand può andarla a sentire e considerare anche un acquisto io non faccio televendita non vendito di così consiglio perché l'ho trovato un profumo che mi ha colpito tantissimo bene questo è tutto una veloce recensione per parlarvi di questa nuova scoperta di dolce gabbana ciao